La stagione dei mangi sta quasi per finire. In India è una grande cosa. Se avessi guardato l'albero di mango, nel mese di ottobre, novembre, dicembre, non avresti visto nessuna dolcezza colarne giù. Improvvisamente a gennaio, febbraio, i fiori sono arrivati. Non erano attraenti quanto i fiori di gelsomino, di rosa o quant'altro. Alcuni minuscoli fiorellini sono arrivati. Supponi che non sapevi che questo è un albero di mango. E lo assaggi. Prendi una foglia e la mordi. È piuttosto amara. Ma improvvisamente nel mese di aprile, maggio, enormi gocce di dolcezza appese lì nell'albero. Quindi, se non avessi saputo in precedenza che è un albero di mango, avresti pensato questo albero produce davvero questa dolcezza. ma pensi che improvvisamente in aprile la dolcezza sia arrivata? Ha prodotto lentamente questa dolcezza e l'ha esposta in una certa stagione. Ma è stata attiva durante tutto l'anno, non è così? I manchi spuntano solo in una stagione. Tu noti la dolcezza solo in un certo momento. Non significa che l'albero di mango non stesse sforzandosi e lavorando per produrre quella dolcezza. Taglia qualsiasi parte dell'albero di mango e assaggiala. Non troverai la minima traccia di dolcezza, credimi. Ma quando il mango arriva, quanta dolcezza! Da dove viene? Ci stava lavorando. Tu non potevi vederlo. Similmente, è un processo? Di sicuro è un processo. Ma tutti possono vedere il processo identificare il processo? No. Quando qualcuno sta evolvendo sul cammino spirituale, gli altri hanno pensato è uno svitato. Qualcuno ha pensato è un mendicante, ha pensato è un vagabondo, qualcuno ha pensato è qualcos'altro. Ma quando la dolcezza è arrivata, tutti quelli che l'hanno assaggiata hanno realizzato che questa è una cosa fantastica. Quindi niente nell'universo succede bang, bang, bang. Ogni cosa è un processo. Puoi identificare il processo? Puoi riconoscere il processo? È la domanda. Di solito, chiunque porti, di solito tra gli esseri umani quando sono bambini, ogni bambino che porta un certo livello di genialità dentro di sé, che è irreprimibile, tutti hanno della genialità dentro di sé, ma possono essere repressi. I sistemi nella società, le loro paure, le loro ansie, il loro bisogno di sicurezza, reprimono la loro genialità. Ogni essere umano possiede qualche tipo di genialità, ma più del 90% degli esseri umani non trova mai il modo di esprimerla, perché si arrendono ad altre cose. Le cose diventano, altre cose diventano più importanti. Quando avevi 12-15 anni pensavi farò questo, farò quello, andrò sulla luna. Ma hai visto la vicina di casa e hai cominciato a chiamare lei luna. La luna è scomparsa. Quindi, in questo modo, in tutti, la possibilità è spalancata. La questione è, puoi sostenere il processo e permettagli di diventare quella possibilità? Tra possibilità e realtà c'è una distanza. La maggioranza delle persone non ha né il coraggio né la convinzione per coprire quella distanza. in gran parte il processo spirituale è una specie di intrattenimento. Passare da un discorso all'altro, un discorso dopo l'altro, leggere più e più libri e discutere come il tuo Atman, Paramatman, la tua anima galleggi qui, e di paradiso e inferno e quant'altro, ma non fare niente per questo. È in gran parte come un intrattenimento. Quindi, c'è un processo, di sicuro. Il processo può essere avvicinato consapevolmente o può essere un processo inconsapevole, ma stai facendo le cose giuste. Questa è la bellezza di questo universo. Che tu sappia o non sappia, consapevolmente o inconsapevolmente, con disciplina o con indisciplina, con amore o con odio, se fai le cose giuste, le cose giuste ti accadranno. Questa è la bellezza di questo universo. Quindi Adi Shankara disse Yoga Ratova, Boga Ratova. In qualche modo, attraverso yoga o Boga, in qualche modo fallo. In qualche modo trova la verità della tua natura interiore. Perché? Ciò che consideriamo verità è semplicemente questo. Qualsiasi cosa funzioni a tutti i livelli della vita deve essere la verità. Non è così? Qualsiasi cosa funzioni davvero a tutti i livelli della vita deve essere la verità. Qualsiasi cosa conosci nella tua vita, testala adesso. Perché hai una mente che può proiettare. Al momento, ti sforzi per ottenere un certo livello di reddito o di casa o una macchina o qualcos'altro o qualcos'altro. Mettiti in stadi diversi della vita e vedi se significa ancora molto per te. Vedi, supponi non domani, diciamo tra cento anni, sei sul tuo letto di morte. Semplicemente vedi se i tuoi gioielli, il tuo trucco, la tua macchina significheranno qualcosa per te quel giorno. Non significa che devi rinunciarci oggi. È solo che devi tenerlo al suo posto, non devi portarlo nel tuo cuore. C'è una differenza tra usare qualcosa ed essere usato da qualcosa. la maggioranza delle persone non sanno come usare le cose che comprano. Le cose che comprano li stanno consumando. Stanno schiavizzando l'essere umano. Qualsiasi cosa tu vogli usare puoi usarla, non è un problema. Ma il problema è lasci che quelle cose usino te. Questo non va bene. quindi se solo fai attenzione a non essere usato da niente, capisci il ruolo limitato che tutto ha nella tua vita, il ruolo limitato della tua istruzione, il ruolo limitato della tua carriera, il ruolo limitato del tuo matrimonio, il ruolo limitato delle tue relazioni, il ruolo limitato della tua ricchezza, il ruolo limitato di tutto quello che fai, se capisci dove una cosa inizia e dove finisce, allora non devi fare niente, il processo spirituale è attivo. Quando la stagione è giusta i fiori sbocceranno e i manchi arriveranno. la stagione è giusta e i manchi è giusta e i manchi è giusta e i manchi